ben tornati nel canale delle burnio partita di serie b di oggi venezia monza giocano al penso alle ore 7 alle 7 alle 7 quindi questa sera le 7 giocano al penso e ne facciamo il pronostico velocemente cambio solo una cosa allora stadio metto notte e siamo a posto penso messo e via formazioni fatte fatti anche i trasferimenti che non c'erano tutti i giocatori e guardiamoci l'entrata finalmente al penso speriamo che ne fassa vedere il penso a sto giro l'altra volta non ce l'hanno fatto vedere a sto giro c'è scritto a pia luigi penso adesso vedremo se con le patch ho sistemato il problema degli stadi essi 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 eccolo qua il penso guarda 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 l'entrata e i tifosi non ci sono allora la curva si è questo il penso ecco qua 4 3 1 2 le zini mazzacchi in modo a cercare infelicero i fredirino tu gordo malè a ramon di mariano e capello ma l'ottalena dovrebbe giocare nel mondo guadamana bellucci donati paletta semprisi colpani fossati fratesi boateng giulita e danni motta e andiamo e ora si fa sul sedio si parte un po' chiuso questo monza eh un po' tanto chiuso ma l'ottalena un po' tanto chiuso decidono di giocarla all'indietro un po' tanto chiuso paletta fa avanzare l'azione con il lancio luglio niente di fatto azione interiore propone di continuare la manovra sul lato contrario bellucci giulio donati bellucci bellucci trova la forma sulla destra cerca la profondità 15 minuti una partitazza di quelle partitazze di quelle brutte da vedere no 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 la prendi là bravo ehi 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 ma ha chiamato un fallo per loro ma che cazzo è una gara di baltolomo mi ha tirato un punto in faccia anche ma arbitro che vergogna che vergogna che vergogna arbitro mi era deluso qua l'arbitro bravissimi dai 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 ma dove cazzo là non ho messi male è un pressing aggressivo questo ragazzi se non funziona un tubo presa un pressing aggressivo buono e che andiamo andiamo da nessuna parte ragazzi qua se non ha melma bravissima no perderla là però rischio qua al 31esmo rischio per il Venezia che perde palla recupera palla in fascia ma la perde un po' problematica qua la partenza del Venezia col Monza però lo vede e lo pesca è un muro dietro è un muro è un muro è andato giù pesante tu burdo gli ha detto mi hai lotto il cazzo mi avete lotto il cazzo e l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino dovrà fare molta attenzione la partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene dopo e la prima ogni spallata facciamo a fallo guarda e trovo il compagno bravi 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 partita sofferta partita dura lenta sofferta non vogliono non vogliono questi per chi sarà tutti messi così mettere così così meglio dai bravo spazza bravo lezze bravo lezze che cosa gli ha fatto di Mariano oh oh monta mia beccate questo gli fa la scucchiaia gli ha fatto la scucchiaiaia la lezze che va dai tifosi lezze che va dai tifosi e lo pesca lo pesca alla grande lo pesca alla grande e gli fa la scucchiaiaia e gli fa il gollonzo gli ha fatto il gollonzo qua rivediamolo ancora lancio perfetto vede di Mariano lo pesca e di Mariano insacca bello 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 grande grande gran gol gran gol di Mariano grande e ma come la metti Monza adesso bravissimo per la palla lì la metti no lì la dovevi mettere più lì va bene lo stesso pescalo così sì ah no infatti mi sembrava di averla presa la palla vedi che vediamo eh sì ti metà da secco sull'uomo ti metà da sempre io sto qua sempre lì vai in cua mi ha detto male va ok tirerà tu burdo vediamo se riusciamo a fare il gol anche qua io tirerei così però la tirerei così vediamo mamma mia devo niente 4-3-3-2 primo tempo così oh equilibrato allora il venezia trova il gol con un gran gol di Di Mariano gran gol lo scucchiaia e tanti saluti si trova la dover amministrare un vantaggio in questo mada scalina la cosa tarata una sassata la era buono era buono era buono l'inserimento vedi butta sull'uomo e tenta la scucchiaia la croccante potente ma non entra è la Ramon credo bravissimo bravissimo no perché l'ha messa così lungo è buona 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 ragazzi, è buona è buona tracchete là è buono 2-0 del Venezia, è buono cappello, cappello sbaglio il passaggio intercettato palla per cappello, buona, è buona, è buona è buona il gioco, vedete il voto salta solo anche al portiere eh, poi ha fatto una grandissima minchiata il difensore del Monza e non perdona, cappello tracchete siamo 2-0 eh, al settantesimo facciamo i cambi, loro si sparano tutti in attacco la partita sta andando a rotoli il Monza senza Kevin Pooey, con Kevin Pooey sbotta e non riesce a fare un cazzo manca Ballotelli anche bravissimo che ha intercettato eh, quasi gran peale però falli innocenti una pedatina se non l'ha avuto una pedatina da munizione buono 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 c'è mica tanto, eh, l'ha messa intorto a Colombo eh, l'ha messa intorto a Colombo eh, l'ha messa intorto a Colombo si quasi falli eh fuori Colpani dentro Barilla cazzo, l'ha messa Barilla dentro Colpani non la prende bene cazzi tuoi ah ah troppo, troppo distante eh, l'ha messa intorto a Colombo eh, vabbè, ma questi diciamo, ha sempre fallo cioè, come che otto ah, chissà, magari sarà Barilla penetrato cà, fallo bravissimi porca paletta bravissimi intercetta bravissimo lancialo bravissimi dai che è un'azione bellissima è un'azione bellissima è un'azione stupenda del Venezia questa è un'azione stupenda del Venezia questa no grande bravissima lancialo bravissima dove si arriva Pumpeo però Cappellosa è finito adesso appena esce la palla facciamo i cambi perché comincia a aver gente a volta non posso fare i cambi finché non esce la palla qui avrebbe potuto chiudere il discorso sarebbe stato impossibile rimontare tre gol passaggio sulla destra Fiorbilino sicuro in fase di palleggio pallone filtrante a superarla qui devi la toglie da porta poteva essere una conclusione decisiva ma l'estremo difensore ha fatto il suo dovere mi sa che non faccio neanche i cambi ragazzi ma si finia prestazione doca del Venezia in casa prestazione veramente top eh ma so la frutta di Mariano Cappello si aggiunta con una partita 2 a 0 2 a 0 Monza se ne va a casa se ne torna a casa con 0 punti uuuuuh dai veneziale dai veneziale dai veneziale dai veneziale uuuuuh dai veneziale grandi grandi ragazzi grandi grandi ha nientato il Monza non trova nessuno spazio il Venezia non concede poco che niente a parte questo colpo di testa grandi giocate grandi giocate del Venezia grandi giocate cioè hanno fatto 0 hanno fatto qualche tiretto così alla cazzo ma niente da fare si questo questo come cazzo si chiama il Jitkiair ha fatto qualche tiretto ma niente di che insomma sembrava una partita che dovesse essere smorta ma poi c'è questo lancio croccante di Malè per Di Mariano che gli fa la scucchiaiata e 1 a 0 Venezia esatto grande grande pescata eh di Malè poi c'è la punizione di Tugurto che non era brutta eh dal senso del gol ma invece va a stare sulla rete esterna guardi Mariano di sinistra non ha fatto quella tira poi cazzata cazzata del difensore e Cappello non perdona e li cazza il 2 a 0 poi altre azioni vabbè qua falli perché appena che gli toccò se fallo qua ah non hanno messo tutte le azioni che ho fatto ovvero quelle fighe e questa qui era bella era bella colpo di test di un portiere fa un miracolo cazzo vabbè poi è porco e per qua Cappello alla fine tenta la botta ma non va e all'ottantasettesimo Di Mariano si lancia e prova la botta ma viene parata 9-7 e disintegrato il Monza possesso palla Monza ma il Venezia comunque gli strappa la VG in casa come un leone che aggredisce la preda si porta a casa i tre punti con un 2-0 un salottone da Leburneo 7 e mezzo Di Mariano cappello 7 e mezzo 7 e mezzo 4 e mezzo Modulo mei coglioni e loro di là 5 quasi tutti 5 qualche 6 se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale delle Burneo porterò tutti i pronostici del Venezia fino alla fine e ci vediamo presto ciao ciao